Da medico sono convinto che sia corretto parlare di riduzione del danno e proporre delle opzioni concrete ai miei pazienti. Quello che facciamo come medici alla fine è ridurre i rischi legati allo stile di vita e questo sia che io stia consigliando il vaccino contro il papilloma virus per ridurre il pericolo di cancro del collo dell'utero sia che stia raccomandando di usare il casco quando si va sulle piste da sci sia che stia suggerendo un'alternativa meno dannosa a un fumatore che non riesce a smettere.